Mi trovo in una delle città più belle d'Italia, una città ricca di arte, di storia, di cultura, Palermo. Una terra che, per citare Camilleri, ha sofferto 13 dominazioni stranieri, dalle quali ha preso sia il peggio ma anche il meglio. Quella che oggi la Sicilia, in particolare Palermo, è proprio frutto di questa fusione, di questa contrapposizione, di questa mescolanza di culture, di storie, di etnie differenti ed è proprio questo che rende così unica e speciale Palermo. Ma perché mi trovo a Palermo? Beh perché qui incontrerò uno dei sarti più famosi della Sicilia, Guido David. Insieme a lui vediamo come nasce un vero abito sartoriale, cosa anima il sarto, cosa c'è dietro il mondo della sartoria. Cercherò di trasmettervi questa atmosfera.